Salve a tutti ragazzi qui TtD, ben ritrovati sul mio canale, siamo qua sul server privato per provare una custom Ultimate Red Zone Vedete il nome lì? Si è Gironno Saronno, il caro Jiren Ultimate Red Zone Jiren, praticamente questa Ultimate Red Zone ha tutti i nemici principali No? Quindi Vegeta, Frieza, eccetera eccetera eccetera, arriva fino a Jiren al momento Non credo di aver visto i film quindi Ci sono tutti questi qua da battere, oggi andiamo con il più figo, no non è il più figo Jirenno, non è il più figo però è il più cattivo, è l'ultima no? Andiamo con Jirenno ragazzi, ci portiamo un team senza custom content, l'ho già affrontato con il custom content tipo il Gonbeast che avete visto nel video Mamma mia quel Gonbeast E diciamo che è stata una cavolata, ora però andiamo con un'unità vera e vediamo quant'è veramente difficile Ragazzi partiamo, l'item ovviamente forse lo useremo, non lo so, quindi yes Ok, allora vediamo un po', primo turno non mi piace, secondo turno non mi piace Ce lo dobbiamo far bastare Eh vabbè, volevo l'ottavo anniversario divise bene Peccato, non sono divise bene, quella è un po' una rottura di balle Allora, 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 chi mi spaventa? Lui Lui, lui mi spaventa Andiamo in 24 Eh, no, attacchiamo Dispo, dai Attacchiamo Dispo No, 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 non le special subito Ah ok Sì la Che palle Assilato Non lo so Tapion Spererei di no Lo sai chi tifo Effettivamente io Ok buono Buono Bustatino Ok allora Gohan Lo metteremo a girare Quindi vabbè Sarà un po' inutile Dopo un po' però Comunque va bene Per ora ce lo teniamo in turno Per un po' di tempo Ce lo teniamo in turno E lo bustiamo Poi dobbiamo girare Che se ne frega Giusto per avere la difesa Per le ultime fasi Ok buono in questo modo Perfetto Allora Mi tengo I GT in turno No è peggio I GT in turno Perché i GT in turno Loro tankeggiano Più facilmente Mi tengo i Bussaga in turno Che li tengo a tankare Li tengo a bustarsi E via Facciamo in quel modo È più sensata come roba È più sensata come roba Perché tanto i GT Basta già due special in croce Dopo il turno Dopo che torno Sono pronti Non è che gli frega molto Del resto Quindi facciamo in questo modo Allora Fiamo Fiamo così Attacchiamo qua Ok Attacchiamo qua E attacchiamo qua Così cerchiamo di farne fuori Almeno uno E via E andiamo per la nostra strada Bustatino Ok Non è una 18 Però A che palle Dispo ovviamente Vado Ok È un po' Un problema Questo Questo è un po' Un problema Ah Che male Cavolo Tirambotte Wow Calma Ho preso l'unità reale O ho fatto il custom Sono serio No Non credo di aver tirato fuori il custom No Non era il custom È solo che è molto danno quello Per il primo turno Così Devo Devo vedere se ho preso il custom Scusate Perché Ormai non ci capisco più niente Di chi è custom o no Vabbè Se l'ha fatto vivo Cioè Se l'ha fatto proprio fuori Ha detto Muori Mortacci tua Crepa Boom Esplodi Vabbè Yeah Non volevo passare alla prossima fase Ma va bene Allora Un attimo solo Fatemi giusto vedere No Non ho preso il custom No 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 Non ho preso il custom È ancora assilato Per quanto tempo me lo tiene assilato Sto cacchio di robo Orcoboia Poi scopri È tutta la run Ce l'hai assilato per tutta la run Lì sarebbe da piangere Piangere proprio letteralmente Allora Peccato questo Gon Perché non si busta ora Però Vabbè E no Jiren Oh Oh Questa l'ho sentita Proprio Dentro di me L'ho sentita Ok Vai Gohan Boostati Ok buono Un'altra special Buono È un problema Per il prossimo turno Perché abbiamo Goku e Vegeta Che sono fisici Quello potrebbe essere Un po' problematico Quello potrebbe essere Un po' problematico Sinceramente Vai Makanko Eh si Makanko Sappo Che cacchio dico C'ho il Makanko Sappo in testa Dopo Gon Beast C'ho il Makanko Sappo in testa Ormai lo spammo per tutto Ok buono Detanking Ovviamente Non lo vedremo Quasi mai boostato Però vabbè Eccolo Vegito Vegito Baruuu Quel sorriso Quel dannato sorriso Ma lol Ah Dimson È un po' schifo Quello di chi Quello è un po' schifo Di chi Ah L'ho sentito I quei pugni Sapete Lol Calma Calma un attimo Perché qua sono nella me Qua sono nella me Se mi arriva Oh oh No Fammi la special Su Vegito Blu Ti prego dai Non rompere Fammi la su Vegito Blu Che almeno Dai vada Fammi la su Vegito Blu Dai Non ti chiedo molto Per favore Si ha preso 60.000 dai pugni Quanto prende lui dai pugni? Che palle Che Madonna Mi ha deletato Ok Retrai Mi ha deletato Come sta andando Non sta andando molto bene Sai Minchia E i turni proprio messi da Dio No no Ma veramente messi da Dio Messi che ci moriamo Madonna Siamo morti? No no Qua siamo morti Non c'è via di scampo No Non ne ho voglia di sentirla Quanto? Quanto mi arriva? Ah no Ok E via Quella 18 ci serve Assolutamente Ok Allora Calma Niente special Su Kid Goku E Vegeta Grazie Niente Niente special Niente special Non rompere Non stressare Non rompere Le scatole Crepa E basta Sta a vedere Che arriva Lo so Vabbè Spererei tanto Su Trunks E Vegeta Però Vabbè Lo so Non capiterà Non capiterà mai Fino Non capita mai Sta roba Dai Yes Quanto? Stannato Per quanti turni Ora E ora c'è quel problema Quanti turni Quanti turni Ora Ciao Pinguino No 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 Quelli sono danni Quelli sono danni Che vorrei evitare Completamente Ma proprio Evitare completamente Che botte Yes Sì È super Quindi sì Non puoi giocarlo Ok A posto Ora Non rompere le balle Grazie Non rompere i maroni Eh perché con 430.000 def vi dico io cosa succede Crepiamo Se arriva la spezia Fammela di nuovo su Trunks e Vegeta E siamo a posto La Ricopriamo un po' di vita E via Yes Prima abbiamo preso 158k Oh E due maroni Devo decidere bene cosa fare qui Devo veramente decidere bene cosa fare Se Perché Dopo c'è Toppo E poi c'è di nuovo Girani Io direi che In realtà Devo tenermi Devo tenermi Non lo so La revive La revive dei Dei GT La posso anche usare Ora Nel senso Cioè Se sono troppo sotto di vita La posso comunque usare Ma non userei ancora L'active qua Mi serve per più tardi E comunque Un bel po' di HP Buono Ok Calma Bisogna avere calma Bisogna avere calma Bisogna solo avere calma E l'unica cosa che ci importa Avere calma Non fa due special Vero? A posto Ok Lui si boosta la death Prenderà anche dei colpini Che a noi ci servono Vegito è totalmente useless Userei la sua active skill Per skippare il turno Non è malvagia l'idea Non è malvagia usare la sua active skill ora Però in realtà no La userei più in là La userei più in là E facciamo questo Perché mi devo Mi devo boostare loro Assolutamente Devo boostarmi loro Non arriverò Non arriverò mai là Ah però Facciamo questo E beh ban Dai Crittate Fate le vostre robine E via Ok Va bene E ora abbiamo Toppo Akai Akai Shin Toppo Ok Questa la possiamo usare Non Allora Cioè se riusciamo A gestircela bene Possiamo Lì ci sono anche tante orbe In realtà potremmo In realtà potremmo Tranquillamente Iniziare a caricare Lo farei Sapete In realtà lo farei Iniziamo a caricare la Genkidama E speriamo di uccidere In fretta però Makanko Sapo Vai Critta anche Grazie Eh peccato Eh no Sono 6 milioni Una barra Praticamente Facciamo conto Sarà 5 milioni A barra 5 10 15 15 20 25 30 35 40 45 milioni Io le devo fare giù 45 milioni all'incirca Perché mi baso su quello No Se 6 milioni e mezzo Sono una barra intera Più un pochino Vuol dire che dovrebbe avere Sui 45 milioni di vita Il problema è Riesco a fare 45 milioni di vita Ora Non lo so Ho fatto una cazzata Anche Eh ma io ho fatto una cazzata Qua Perché ho pregio le orbe Prima di trasformare loro Quindi hanno orbe in meno Ho fatto una Tremenda cavolata Waktikure Tanemo Oh Kitakita Prepariamoci Porche Vabbè No Devo tenere queste orbe Per lui Perché così Mi busto la vita E soprattutto Gli faccio anche un bel po' Di roba Peccato un attimino questo Calma Non è Il setup migliore Questo Buono 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 Calma Secrito con Gun Beast In realtà è ok No ok Eeeh Eeeh Boy Incazzatissimi Buonissimo Forse ce la facciamo Forse ce la facciamo No Che strano Jacopo A me non succede Quello però Io l'unico problema Che sto avendo È con opera Io uso opera E Ho problemi con opera E basta Ok vai Go on Devi fare un bel po' Di danno Buono Yes Ce la possiamo fare Ce la possiamo fare We can Yes we can Let's go Yes Go on Vai Go on Let's go A postissimo Ok buonissimo Niente active qui E non serve neanche tirare active qui Prendiamo solo tante 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 orb E via 7 orb 7 orb 7 orb Qua vabbè Un problema 3 orb lì Peccato Facciamo full 5 turni Facciamo full 5 turni E via Buono Buono E' un vegito Vabbè sta tazzo Però è un problema Vegito Perché attacca E non si è mai boostato Vegito Quindi Un problemino Un problemino Un problemino Però Ok buono Voi tirate special Buono Ok Allora Calma 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 Eccolo qua Boss finale Jiren Full power E come ho detto E' un problemino Cioè nel senso Capiamoci E' comunque Int E' Quello E' un vegito Che non si è mai Visto Quindi Yes Diciamo quello che è Qua prendiamo queste belle orb Bello 6 6 6 6 A prescindere Va bene E' Niente Dobbiamo avere solo Fortuna Di non Vedere la special Là sotto Calma Poi dopo Ci possiamo Anche trasformare Quindi Vabbè La spiegazione Di come si fa Il doc Grazie mille Vegito Evadi E siamo a posto Posto No 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 Non portate sfiga Special subugito No Non portate sfiga Ok Ehm Allora 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 Calma Vegito E' il tuo Momento Della verità E' brutto Vegito Vegito Che non si è Boostato E' bruttissimo Dopo abbiamo L'active Di cosa Ok Calma No Kid Gohan Torna Ok Kid Gohan Torna Quando arrivano Di nuovo Gli zii E' giusto Magico Vegito Non Boostato Vegito Dai Vadi Non mi dire Che blocca Leva A sto punto Perché mi spaventa Quello Allora Considerando Che qua Potrebbe Arrivarmi La mortifera La mortifera Facciamo questo Considerando Che potrebbe Arrivare La La palla Della morte Attiviamo La Stand By Ok Vai Andiamo a morire Andiamo a morire Tanto sta per arrivare Quella mega special Della morte Quindi andiamo a morire Lo teniamo anche ultimo Perché Si Prendiamo 6 orb 8 orb 5 orb Ok Va bene Tanto poi moriamo Non è un problema E intanto stiamo Avendo la stand by Della vita Speriamo di arrivare Alle special Di cose Speriamo di arrivare Alle special Di Gohan Anche E via Buono Forse lo completiamo No item Sono molto felice Della roba Con un team Senza Fede 80% Buff È arrivato È arrivato ai danni Del Gon Beast Server privato C'è arrivato C'è arrivato Anche lui Non conti più? Ah Eccolo Eccolo Sta per arrivare Sono pronto A saltare in aria Forse la chiudiamo Con questa Genkidama Forse Vediamo Ah Oh Eccola che arriva Voglio vedere Quanto danno è Bam Un milione E otto Un milione E otto Kisano Makeda Eccolo che arriva Eccola che arriva Ucciuno Minna Genkio Wakate Kure Sankyu Ucciuno Minna Icose Eia Bam Lo uccidiamo? Lo uccidiamo? No E va bene La chiudiamo con i busaga Let's go Eccola qua Overkill Anche Perché sì La facciamo overkill Non me ne frega niente Perché è sempre più divertente Tatan Let's go Chiudiamola così Ah Kita Kita Tamachubae Ike Eccola qua Sankyu Dragon Ball Eccola 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 Matana Quanto 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 Uccidilo Uccidilo Dai Fagli un bel 50 milioni Crittati No Non ha crittato Erano sui 50 milioni Crittati Let's go Con anche È sempre troppo Poco da fare Bellissima Let's go Abbiamo battuto la Custom Ultimate Red Zone Di Jiren Giusto per farci capire Lascerò nei commenti Un Lascerò nei commenti Tre commenti Il commento Con più like Sarà quello che andiamo A affrontare la prossima volta Hit Golden Frieza Beerus Shin Sharon Super 17 Baby Generale Rildo Majin Bu Cell Frieza E Vegeta Lascio nei commenti Tre commenti Che troverate 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 Il commento Con più like Dopo 48 ore Sarà il prossimo video Detto questo è stato un piacere Grazie mille per aver visto il video Lasciate un bel like Commentate Se siete nuovi sul canale Considerate l'iscrizione Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti